Si contano tre decessi e sono 604 i pazienti positivi nelle ultime 24 ore in provincia, 415 a Gela, un numero esorbitante, 60 a Niscemi, 31 a Caltanissetta e sul fronte ricoveri si resta instabile. La situazione, 54 sono ricoverati in malattie infettive, 8 sono ricoverati in terapia intensiva per 3.889 pazienti positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. Esorbitanti i numeri che riguardano Gela, 2.042 positivi in quarantena domiciliare, 22 in malattie infettive ricoverati, 6 in terapia intensiva. Aumentano anche i numeri di Caltanissetta, sono 710 i pazienti ricoverati in quarantena domiciliare e 12 invece sono ricoverati in malattie infettive.